Silenzio! Io ringrazio tutti quelli che hanno contribuito a fare questa magnifica statua a questa riconoscenza, a questo ragazzo che sinceramente per Taranto poteva far cambiare qualche cosa, poteva essere un anno storico in cui potevamo noi lottare per andare a fare quest'altro di qualità. Purtroppo è accaduto quello che nessuno si aspettava e niente, mi voglio ricollegare adesso a questo Taranto che io parlo di Taranto, non delle persone che, del signor Pieroni, dei quattro di minoranza. Io voglio che il pubblico tarantino che visto e considerato è qua ama la squadra e questo silenzio secondo me può essere giusto, però oggi come oggi la squadra ha bisogno di tutti voi, di essere aiutata per iniziare questa avventura con il nuovo allenatore, quindi oggi io ritengo che questo sciopero sia controproducente e quindi dobbiamo andare a bravo. E aiutare questi ragazzi che all'inizio sarà un po' difficile perché dobbiamo vincere assolutamente. Niente, fate il tempo, mettetevi la sciacqua come il signor sindaco e forza Taranto. Grazie. Grazie.